Amare la lettura attraverso un gesto d'amore, un adulto che legge una storia. Ogni bambino ha diritto ad essere protetto non solo dalla malattia e dalla violenza, ma anche dalla mancanza di adeguate occasioni di sviluppo affettivo e cognitivo. E' questo il cuore di Nati per leggere, la campagna nazionale nata nel 1999 con l'obiettivo di promuovere la lettura ad alta voce ai bambini tra i sei mesi e i sei anni. Nell'ambito di questo progetto i sei sistemi bibliotecari bergamaschi tornano a proporre Nati per leggere in festa. A differenza delle scorse edizioni, quest'anno l'iniziativa non si limiterà più ad un solo fine settimana, ma si allargherà a tutto il mese di novembre. Le biblioteche attiveranno letture, esposizioni di libri, laboratori, momenti di festa con merende e incontri rivolti ai genitori. Per i bambini che parteciperanno sono pronti due regali. Il primo è il calendario 2010, con sei libri segnalati al mese attraverso la riproduzione delle copertine e i dati bibliografici. Il secondo, una delle riviste per bambini, La Pimpa e Giulio Coniglio. Venerdì 20 novembre, inoltre, in occasione del ventesimo anniversario della Convenzione per i diritti dell'infanzia, nelle scuole materne, nei nidi e negli spazi gioco verranno interrotte le attività in corso per lasciare spazio alle storie, che potranno essere lette o raccontate dalle insegnanti o magari da qualche mamma o papà. Iniziativa questa che ha ottenuto il patrocinio dell'ufficio scolastico provinciale.